Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo Danna e oggi siamo qui per parlare dell'evento Marvel Panel che è stato dedicato appunto il 28 luglio alle ore 3 del mattino. Io ovviamente non ho il visto, però mi sono svegliato stamattina per vedere tutti i nuovi aggiornamenti, tutte le nuove novità riguardanti all'universo Marvel e adesso ve ne andrò a parlare. Ma prima vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social, mi raccomando, inoltre usufruite dell'80% di sconto su Instant Gaming che potete trovare il link in descrizione, mi raccomando ragazzi approfittatevene perché se no mi fate rimanere molto molto male. Allora, questi sono stati tutti gli aggiornamenti del Marvel Panel e adesso vi andrò ad elencare uno per uno e analizzeremo. Allora, per quanto riguarda Captain America Brave New World, hanno mostrato una clip in cui si vede il presidente Ross trasformarsi in Red Hulk davanti alla Casa Bianca. Allora, hanno rivelato che dentro il celestiale nell'oceano, quindi l'abbiamo visto in Eternals, c'è l'Adamantio e che il personaggio di Giancarlo Esposito sarà Sidewinder, il re della Serpent Society. Allora, noi abbiamo già visto chi è Red Hulk, verrà interpretato appunto da Thaddeus Rosso, ovvero l'attore che interpreta Thaddeus Rosso si chiama, non mi ricordo, Harrison Ford. C'ho una memoria veramente di ferro. E appunto si vede questa clip che ancora non è girata online su Twitter, quindi va bene, che appunto si trasforma in Hulk rosso davanti alla Casa Bianca, come abbiamo visto anche nella parte finale del teaser trailer che ha, vabbè, abbassa lo studio di Captain America, però diciamo che la scena è quella. E dentro al celestiale che abbiamo visto in Eternals, sconfitti dagli Eternals, Eternals, scusate, dagli Eterni, vabbè, nell'oceano c'è l'Adamantio. L'Adamantio è un materiale composto dagli artigli di Wolverine, ecco, diciamo che è così. Invece il personaggio di Giancarlo Esposito sarà Sidewinder, che non conosco ragazzi, a meno che non sapete, io non so nulla dei fumetti, presso a poco. Il re della Serpent Society, non so chi siano, quindi vabbè. Hanno parlato dei Thunderbolts, è uscito il logo ufficiale dei Thunderbolts e a quanto pare quell'asterisco che si vedeva alla fine della parola non è un asterisco ma sono dei proiettili. Quindi va bene. Mostrata una clip con i personaggi, con i costumi nuovi e sembrerebbe che Val Fontaine, quello che abbiamo visto nel finale di Black Widow nella scena post-credit e in Captain America la serie, come cazzo si chiama? Ah, fa con le Winter Soldier e basta, mi pare, credo di sì. Aspetta, dove stavo? Ok. E sembrerebbe che Val sia la nuova proprietaria della Avengers Tower, quindi diciamo che la Avengers Tower viene, come presto dire, presa da questa Val, che è tra l'altro personaggio discuribile nel mondo dei fumetti, però l'attrice è brava, molto brava. I Fantastici 4, molto interessante questo perché abbiamo un nome, si chiama The Fantastic Four First Step, i primi passi. Nuovo titolo per il film, come abbiamo visto, mostrata la loro auto, che vabbè, la clip c'è, andatelo a vedere su Twitter perché vabbè, più una clip in cui c'è il trailer effettivo, un teaser trailer di questi Fantastici 4, e abbiamo un primo sguardo a Galactus. E ci voleva tanto a mostrare questo cazzo di Galactus. Boh, vabbè. E questi erano i Fantastici 4, aprite bene le orecchie, perché adesso si fa nelle fiamme del fuoco. Il film di Blade, che doveva uscire perché, a quanto pare, nella post-credit finale, la seconda, degli Eternals, c'era appunto questo fantomatico personaggio di Blade, e a quanto pare è stato rinviato a data a destinarsi. Il film di Blade, i cazzi, però vabbè. Avengers Secret Wars, nuovo logo e annunciati il gusto alla regia. Molto bene. Più il ritorno di uno degli sceneggiatore di IW, non so che... IW, Ed Edgame. Quindi va bene, ci sta. E poi c'è una notizia che ha fatto... Allora, a tutti hanno fatto piacere, ma a me, sinceramente, non tanto. Vi devo dire che... Certo, mi ha fatto un po' di piacere, però diciamo che si è creato un po' un casino. Adesso vi andrò a farvi... a leggere. Avengers Doomsday. Non è più The Kang Dynasty, ma Doomsday. Quindi il nuovo cattivo non sarà più Kang e Conquistatore, ma sarà appunto Victor Van Doom. IW, tu, alla regia, con... Robert Downey Jr., che torna nell'MCU, ma come Dottor Destino. Ora. Va bene che Iron Man è morto. Ok. Perché riprendere gli stessi attori per un ruolo diverso? Però c'è anche una teoria. Diciamo che c'è una variante, ecco, diciamo così. Ovvero viene ripreso dai fumetti in cui Iron Man, nei fumetti, prende i poteri di Dottor Destino. Quindi può darsi che bene è replicato quel fumetto lì? Non lo sappiamo. Comunque, Robert Downey Jr. ritorna alla Marvel, però non come Iron Man, ma come Dottor Destino. Per me va bene, però diciamo che... Un po' meno, però vabbè. Comunque sono preso tutti, questo è stato l'evento. Non hanno annunciato nessun gioco, nessun niente. È soltanto dei prodotti molto essenziali, perché effettivamente ci hanno dato un po' di interesse in più. E vabbè, diciamo che questi sono gli annunci della Marvel. Comunque, detto questo, grazie mille per aver visto questo video. Vi ricordo, come al solito, di seguirmi su tutti i canali social, mi raccomando. Noi ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando. Link in descrizione a 80% di sconto su Instant Gaming. Mi raccomando, usufruitene perché ne vale la pena. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Grazie.